La principessa Diana è immortalata come la principessa del popolo per un motivo. Ha toccato il cuore di così tante persone in tutto il mondo e, anche dopo la sua morte, un proprietario di un caffè ha ricordato la sua eredità con un toccante tributo. Il proprietario del caffè Diana, Abdul Daud, ha inviato i fiori della principessa ogni anno per il suo compleanno. E poiché un memoriale è stato svelato ai Sanken Gardens in suo onore M.R. Daud ha anche assicurato che il suo sessantesimo fosse un giorno speciale. I fan reali sono stati accolti nel suo caffè di Kensington il giorno giovedì 1 luglio. Punto punto. È proprio in fondo alla strada da Kensington Palace, dove Diana viveva con William e Harry. Ha chiamato il suo caffè in adorazione della principessa che frequentava regolarmente il caffè per salutarlo e ringraziarlo per il bouquet annuale. Diana si è fermata al caffè dopo aver visto il suo nome sull'insegna, meno di un mese dopo che il signor Daud ha aperto le porte, visitava spesso William e Harry. Con il passare degli anni, l'amicizia è sbocciata e il proprietario del caffè ha rivestito le pareti con foto autografate della principessa del Galles e biglietti di ringraziamento. Anche dopo la sua morte nel 1997, il signor Daud avrebbe portato fiori ai cancelli di Kensington Palace per ricordare la loro amicizia. Diana una volta ha chiesto al proprietario perché lo avesse chiamato caffè Diana e lui ha risposto grazie a te che ha fatto molto piacere alla principessa, ha detto ad A.P. Abdul Daud è stato profondamente rattristato dalla notizia della sua tragica morte nel 1997. Ha chiuso il caffè per due giorni dopo la morte di Diana e, alla riapertura, è stato invaso da fam venuti a rendere omaggio alla defunta principessa. Punto. Da allora è diventata una destinazione per i fan di Diana per ricordare la sua eredità. E' stata dura. Per due giorni non ho dormito bene, quindi. E' qualcosa che ti manca. Come se avessi perso qualcosa di veramente prezioso per te, come parte della mia famiglia, ha detto ad A.P. Era solo una tragedia. Molto tristemente mancata e l'amavamo a pezzi. L'ho amata alla follia. E lei sarà nei nostri cuori da ora e per sempre. Il caffè è proprio in fondo alla strada dalla statua di Diana che è stata svelata giovedì dal principe William e dal principe Harry nel Sunken Garden di Kensington Palace. I cancelli di Kensington Palace sono stati coperti di tributi a Diana per celebrare il suo compleanno il primo luglio. Il primo luglio. Grazie a tutti.